La storia di una società Nel teatro Margherita di Bari, Cime in collaborazione con Sud-Est 57, ha portato la mostra di respiro internazionale del maestro Erwitt, scomparso poco più di un mese fa. Dopo World Press Photo 2023 siamo qui sullo stesso palcoscenico con un'altra mostra internazionale, in questo caso è Elliot Erwitt. A meno di un mese purtroppo del suo decesso siamo riusciti a inaugurare qui la sua mostra iconica, con i suoi scatti che molti riconoscono già qui al teatro Margherita. È un po' una successione a cui vogliamo creare un collegamento, sono l'arte visiva internazionale portata a Bari in grado di lasciare qualcosa ai visitatori, ma soprattutto di raccontare delle storie. Se World Press Photo raccontava l'attualità e delle storie di attualità, Elliot Erwitt racconta un po' delle storie senza tempo, regalandoci sia storie di quotidianità, sempre con questo scatto ironico, con il suo tocco delicato, anche romantico, e anche scatti che raccontano la storia, con scatti iconici di Hollywood come Marilyn Monroe o anche in altri casi come Fidel Castro, Che Guevara, insomma scatti che molti di noi riconoscono, che hanno visto, a volte, ecco qualcuno ci ha detto, io non sapevo fosse di Elliot Erwitt, ma l'ho vista così tante volte che effettivamente mi è familiare. Ecco, sono scatti iconici che ritroviamo nel teatro Margherita tutti insieme ed è un bel regalo, è un bel momento magico. Attraverso questo percorso visivo si scopre la sua carriera professionale, ma anche la storia, come dicevi, la storia proprio di una società che cambia, che si evolve. Sì, dunque Elliot Erwitt è iniziato a scattare dalla fine degli anni 40 fino ad oggi e ha scattato in maniera, raccontando un po' quella che è la storia, raccontando anche la quotidianità e raccontando dei punti di vista particolari, in particolar modo per esempio quello dei cani, lui era molto legato ai cani e ci sono queste immagini proprio ad altezza cane quasi, che raccontano un po' il loro mondo. Lui cercava sempre, anche nella quotidianità, di trovare quello che è il momento magico, il momento inaspettato, il momento epico. Ecco, questa è una delle doti principali di Erwitt, di saper trovare in quello che può sembrare un momento banale, quotidiano e semplice, un momento importante che può fermare solo lui nel tempo e nella storia. Ci sono scatti iconici, lo abbiamo detto, scatti conosciuti dalla maggior parte delle persone, cosa li ha resi così celebri? La celebrità di Erwitt sicuramente arriva dalla sua capacità di trovare, come ho detto prima, in momenti che possono sembrare semplici e naturali, saper trovare la particolarità e l'ilarità. Ci sono tanti scatti molto divertenti, dove Erwitt di fatti ferma il tempo, oppure in determinati casi racconta, come in alcuni musei, pur non volendo, la differenza, per esempio, tra uomo e donna, in quello scatto in cui racconta il posizionamento degli uomini che guardano un determinato quadro, piuttosto che le donne ne guardano un accanto simile, però in maniera diversa. Ecco, lui ha saputo fermare il tempo in questi attimi, che sono attimi che si perdono, che se non sei in grado di leggere non riesci a riportarli in questo modo. Poi devo dire che il bianco e nero aiuta tantissimo a fermare il tempo e a renderlo iconico. Ogni scatto in realtà racconta una storia e di fatti non c'è un vero e proprio percorso all'interno della mostra, perché effettivamente ogni scatto racconta qualcosa ed è un momento iconico. Iconico in realtà è la definizione di uno scatto che è stato visto tante volte, utilizzato tante volte. Questi scatti molto spesso sono, in tanti ci si ritrova a convergere su quanto sia magico o quanto sia interessante uno scatto di Erwitt. Non a caso anche la pubblicità ha utilizzato diversi scatti, prima, dopo, realizzati appositamente. Ci sono alcuni scatti all'interno della mostra che Erwitt professionalmente ha svolto e realizzato proprio pensando a una pubblicità. Ci sono altri scatti della sua vita quotidiana, in particolar modo quella dei cani per esempio, e ci sono alcuni scatti in cui lui si è trovato e ha seguito la storia e ha saputo cogliere determinati dettagli che in mostra rivedrete. Per esempio c'è Jackie Kennedy, uno scatto incredibile che riporta nel momento in cui c'è il funerale è riuscito a cogliere la lacrima di Jackie Kennedy lì dietro la retina. E di fatti lui dice sì, io però effettivamente lo ammetto, me ne sono accorto all'interno della camera oscura perché chiaramente stiamo parlando di altri tempi, si parla quindi di analogico e parte del lavoro veniva svolto all'interno della camera oscura. E lì Erwitt in quel momento riusciva a ritrovare e a lavorare allo stesso tempo su quello che era riuscito a produrre. In questo caso aveva trovato una bella scoperta come questi dettagli che fanno la differenza in uno scatto. Tra i soggetti preferiti del maestro, i cani ma anche le star di Hollywood, come Marilyn Monroe, sua cara amica, ma Elliot Erwitt nella sua lunga carriera professionale si è anche occupato di campagne pubblicitarie. L'ironia ma anche il romanticismo, gli ingredienti dei suoi scatti. Questo è uno scatto che Erwitt ha realizzato appunto, era scopo commerciale ma soprattutto scopo turistico legato alla Francia e in questo scatto, come solo lui sa fare, è riuscito a cogliere quella semplicità, quella quotidianità, quella tipicità dei tratti francesi legati un po' al rapporto molto romantico, anche non o nipote, ma anche alla baguette e alle strade delle campagne di Francia. Altri ce ne sono, a Parigi per esempio, allo stesso tempo per la Torre Eiffel, ed è lo stesso scatto che voi ritroverete sull'unotto del Margherita, c'è questo salto sospeso di questo uomo con l'ombrello, con lo sfondo della Torre Eiffel. In questo momento lui ha voluto sospendere, è uno scatto che appunto sospende il tempo e la sospensione di questo ballerino lo richiama e allo stesso tempo il soggetto principale è poi Parigi e è semplicemente sullo sfondo. Erwitt era molto legato ai cani e scattava quella che era la quotidianità e lui era il suo estro, lo portava un po' a sperimentare. Di fatti, in uno degli ultimi periodi, soprattutto lui girava con un bastone e spesso si avvicinava ai cani ed abbaiava, semplicemente. Lui era molto bravo ad abbaiare e i cani si spaventavano e saltavano. In quel momento lui cercava di scattare il cane e veniva ripreso di fatti all'altezza a piedi. e quindi lui aveva studiato un sistema per cui la macchina fotografica era vicina al bastone e riusciva a fotografare in questo modo. Detto questo, lui era molto legato ai cani e soprattutto all'idea che i cani potessero assomigliare ai loro padroni e molto spesso cercava quindi queste similitudini. Altre foto molto interessanti sono, ad esempio, qui arriviamo a New York su un gradino, ci sono due cani e addirittura il cane viene ripreso in modo tale che sembri essere la testa del padrone stesso. Qui dietro di me, ovviamente, sono due foto riconoscibilissime per quanto buffe e anche molto interessanti e soprattutto perché riusciva a trasmettere tramite queste foto quella sua carineria e quel suo interesse e quel suo amore che aveva rispetto proprio agli animali e i cani. Qui parliamo del suo rapporto che aveva un po' con le star di Hollywood. A lui non piaceva fotografare le star di Hollywood impettite o comunque in posizione o studiare una posizione plastica per cui lui di solito aveva un rapporto con queste persone, in particolare con Mary Monroe. Lì avevano infatti tutti gli scatti che ripropone, ripropone una Mary Monroe abbastanza, quasi degli scatti intimi perché lui si ritrova all'interno magari della sua casa o all'interno di spazi in cui sono come amici, sono lì, che trascorrono del tempo e qualche volta coglie uno scatto. Questa invece è una delle immagini conosciuti da tutti, ovviamente, famosissima, è ormai iconica, iconica legata soprattutto al romanticismo, all'amore, ma in realtà era uno di quegli scatti che a Erwitt non piaceva. e era uno scatto che lui aveva colto a un matrimonio di suoi cari amici perché lui aveva sempre con sé la sua macchina fotografica, però lui non era così contento. Devo dire che qui la curatrice, Bivio a Giacchetti, spinse all'epoca per farla venire fuori dai suoi archivi perché aveva degli archivi immensi dove tante tante immagini probabilmente sono ancora lì e questa era una di queste che poi ha fatto il giro del mondo e è diventata iconica anch'esse. Ecco, all'interno della mossa di Erwitt, ma in generale considerando questa mossa monografica proprio su Elliot Erwitt, possiamo ritrovare una serie di immagini diventate iconiche. Io non credo che ci siano tanti fotografi che possano vantare tante foto poi diventate col tempo iconiche, ossia riconoscibili e riconosciute un po' da tutti. Questo sicuramente è un merito dell'arte di Erwitt che indubbiamente piace a tutti. La mostra sarà visitabile fino al 31 marzo, lo ricordiamo. Che tipo di risposta però state già avendo? Stiamo avendo un'altissima risposta, devo dire che inizialmente eravamo un po' scettici, la prima monografica di livello internazionale fatta qui al Margherita a Bari e non sapevamo come la città poteva effettivamente rispondere a questa mostra. Stiamo avendo una risposta molto interessante, molti ringraziamenti, di questi siamo molto contenti e adesso che ricominciano le scuole noi stiamo già prevedendo un programma anche per loro. Infatti insieme alla solita visita, alla visita guidata della mostra avremo la possibilità di poter fare un piccolo laboratorio fotografico per spiegare come funziona la fotografia, come Elio Terwitt operava, ma non solo a Elio Terwitt, come operano i fotografi oggi, come lo facevano ieri, quindi studiando anche cos'è la camera oscura, considerando i dettagli tecnici di una fotografia, per quanto sia ovviamente relativamente all'età dei nostri studenti che arriveranno. Questo è un aspetto molto interessante, per il resto tutti possono venire a visitare la mostra. Siamo aperti ogni giorno fino alle 9 di sera, tranne il venerdì e il sabato, che siamo addirittura aperti fino alle 10, diamo un'ora in più a disposizione, quindi dalle 10 alle 10. Tutte le altre informazioni sono presenti sul sito eliotterwittbari.it, ci sono i numeri per prenotare anche le visite per le scuole e le mail per eventuali informazioni extra. Quindi se volete eliotterwittbari.it oppure sui social sono presenti sia le faggine Facebook che Instagram della mostra presente oggi al Teatro Margherita.